Quello che stiamo vivendo nella Valle del Po non è un episodio isolato, è parte di una tendenza irreversibile, una tendenza alla modificazione dei sistemi idrici legata al cambiamento climatico, rispetto alla quale dobbiamo urgentemente adattarci in una maniera strutturale. Questo adattamento non può che passare da un ripensamento degli usi delle acque, ed è un ripensamento che implica un confronto sui modelli economici, ma anche un confronto su come e chi prenderà le decisioni necessarie a questa riorganizzazione, per assicurarsi che questa riorganizzazione degli usi delle acque, che è necessaria per via della crescente scarsità, sia una riorganizzazione giusta e non ingiusta, cioè che tenga conto nella maniera migliore possibile degli interessi dei più e non degli interessi dei pochi. Io credo che ci sia molto da imparare dai paesi che fanno i conti da prima di noi con la scarsità d'acqua. Penso per esempio ai paesi dell'Africa del Nord, penso all'India, ai cosiddetti paesi del sud del mondo, che abbiamo sempre guardato con una certa supponenza e senso di superiorità, ma che sono paesi invece che hanno sviluppato una serie di tecniche, tecnologie, sistemi, modi di cultura, che sono stati pensati proprio per fare i conti con la scarsità e per tirar profitto dal massimo possibile da condizioni ambientali molto dure. E questi sono ad esempio le forme di policoltura. L'esempio più semplice che mi viene in mente è la policoltura della regione del Sahel, che è questa banda semidesertica che si trova a sud del Sahara, in cui tradizionalmente le popolazioni locali avevano sviluppato delle forme di policoltura, cioè di coltivazione di tipi diversi di prodotto, nella stessa parcella, capaci di adattarsi a condizioni climatiche diverse, il che rappresentava, se vogliamo, una forma di assicurazione, nel caso in cui un tipo di prodotto, un tipo di pianta, dovesse fallire per via di condizioni climatiche avverse, c'era sempre un'altra che invece prosperava in quelle altre condizioni, che assicurava il raccolto. Grazie